Faccio fatica a reprimere la rabbia e la cerco di trasformare in indignazione, ma non si può morire come mosche. Sciagurato quel paese che ha bisogno di eroi, non ci si può chiamare eroi un giorno e mandarci allo sbaraglio. Io non credo nella metafora della guerra, qui c'è una tempesta, una tsunami, nel quale ci sono delle persone che possono arrestare questo tsunami e li mandiamo a morire. Questo è inaccettabile. 12.000 persone, 13.000 operatori sanitari tra i farmacisti, i biologi, i chimici, tutte queste persone non possono morire in mano. Io sono assolutamente indignato perché conosco tanti colleghi che si sono ammalati e sono in terapia intensiva semplicemente per aver operato o per aver curato le persone.